Matteo, capitolo 2. Leggeremo i primi dodici versi. Così è scritto. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo, dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Erode. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto alla minima fra le città principali di Giudea, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E, mandandoli a Betlemme, disse loro, andate e chiedete informazioni precise sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono. E la stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. C'è un aspetto interessante che voglio sottolineare ed è il viaggio, il lungo viaggio di questi uomini avvertiti divinamente per andare a trovare Gesù, incontrare Gesù, offrirgli dei doni e adorandolo, riconoscerlo quale loro re. Allora, sapete, è una storia veramente, veramente interessante. Ci sono molti misteri che avvolgono questo evento. Questi uomini probabilmente erano astrologi dell'Oriente, appartenenti a popoli pagani. E fu proprio quella stella che Dio mandò a guidarli verso il Signore. E non solo, ma essi ricevettero divinamente anche rivelazione riguardo la nascita di Gesù, quale re, perché essi stavano cercando appunto il re. Non era solo una stella che l'incuriosiva e che volevano seguire, ma era il fatto che quella stella indicava loro che il re era nato. Ma quello che voglio sottolineare è che non solo era nato, ma che essi, se si fossero messi in viaggio, sarebbero stati guidati ad incontrarlo. Ecco, tralasciamo tutti i misteri che avvolgono questa storia, i tanti inquisiti, quanti fossero i magi, la tradizione ne riporta tre, perché tre furono i doni che essi presentarono, ma non sappiamo quanti in effetti fossero. sappiamo solo che erano più di uno, almeno due, ma più di questo non sappiamo. Non sappiamo né i loro nomi, come invece la tradizione ha voluto attribuirgli, ma quello che a noi interessa in questa storia, così come ogni qualvolta la parola di Dio ci riporta una notizia riguardo la parola di Dio, è l'insegnamento che c'è dietro, quel grande insegnamento che per noi è importante. Vi dicevo, uno degli aspetti che voglio sottolineare, prima di entrare nel cuore dell'argomento, è il fatto che Dio fece venire, non solo a conoscenza della nascita del re, i pastori di Israele. Ricordate, no? L'angelo che annunciò l'evento della nascita e i pastori andarono a vedere questa grande, meravigliosa rivelazione. Il che era doveroso, infatti, essi furono i primi a incontrare il re che era nato. E notiamo che quando i magi arrivarono, qualche tempo dopo, non sappiamo quanto tempo dopo, notate che Matteo riporta che essi entrarono in casa, non era più ospite in una stalla, i pastori avranno provveduto, certo, per loro un'ospitalità migliore. Ma dopo essere stato portato l'annuncio agli uomini, ai pastori di Israele, l'annuncio arrivò anche alle genti lontane. E noi ringraziamo il Signore per questo, perché noi eravamo leggenti lontane, come gli ebrei erano usi chiamarli i gentili, cioè i popoli pagani, esclusi al tempo dalle promesse, ma acquistati da Cristo. E era interessante quindi perché? Perché noi vediamo che questi magi furono divinamente avvertiti, che era per loro stata aperta una via e c'era una guida che li avrebbe condotti a conoscere il re dei re, il signore dei signore. C'era una guida che non solo aveva rivelato loro la nascita del re dei re, ma che li avrebbe condotti ad incontrarlo. E se c'è una verità che la parola di Dio sottolinea è che tutti coloro che sono da Dio chiamati possono affermare di aver incontrato il Signore. Non una religione, ma un incontro diretto e profondo con l'azione efficace dello Spirito di Dio che ha rivelato ai nostri cuori, Cristo Gesù, il Signore, il quale è divenuto per noi il re della nostra vita. Vedete, la cosa interessante sta proprio in questo, che questi magi partirono non come Erode poi farà più avanti quando non lo stesso Erode, ma vorrà vedere Erode Antipa il miracolo fatto da Gesù, quasi fosse incuriosito, no? Sono felice di vederti, vieni, vieni, fammi vedere le meraviglie. E Gesù rimase in silenzio dinanzi a quest'uomo così misero. Ma questi uomini vanno a vedere Gesù per riconoscerlo quale re, per offrirgli i loro tesori. E questo è l'aspetto importante. Quando noi ci accostiamo a Cristo, ci accostiamo per innalzarlo quale Signore re della nostra vita, per prostrarci dinanzi a Lui e offrire a Lui il meglio di ciò che siamo e abbiamo. Perché riconosciamo che anche se giunto nell'umiltà, come i magi d'Oriente videro in quel fanciullo il re dei re e il Signore dei signori, colui che presto verrà non vestito d'umiltà per morire sulla croce e pagare il prezzo dei tuoi peccati e dei miei, ma verrà come il re dei re e il Signore dei signori per giudicare le genti e per raccogliere la sua chiesa. Ora, quello che dobbiamo comprendere quindi è questo, che noi se lo abbiamo cercato e lo abbiamo trovato, abbiamo trovato colui che regna sulla nostra vita e abbiamo deposto ai Suoi piedi interamente la nostra vita. Se uno vuole seguirmi, dirà più avanti Gesù, rinunci a se stesso, eccolo il primo dei doni che va offerto dinanzi a colui che è re. La tua vita, la tua volontà posta ai Suoi piedi come il dono che hai recato per adorarlo. Dio non riceverà mai l'adorazione da chi non ha posto ai Suoi piedi come dono la propria vita in una resa che vuole crescere verso la perfezione. Sappiamo che non obbediamo perfettamente al Signore né che abbiamo perfettamente rinunciato a noi stessi, ma noi offriamo giorno dopo giorno la nostra vita, arresi dinanzi a colui che è Signore sulla nostra vita. E questo è un aspetto importante, vedete, l'adorazione di questi magi d'Oriente avviene contemporaneamente all'offerta. Ora Dio non riceve dalle nostre mani oro, incenso, mirra, ma questi doni sono il segno della sua regalità e della nostra totale donazione a Lui. Quello che Dio vuole ricevere da noi è obbedienza, rinuncia a noi stessi, è sincera adorazione e l'adorazione riconosce Dio quale Signore sopra ogni aspetto della nostra esistenza. Ecco allora che questi uomini giungono e incontrano. E questo è il primo aspetto di un insegnamento importante, ma guardate, ora c'è un secondo aspetto che voglio sottolineare con voi. Questi uomini divinamente avvertiti da Dio seguirono la sua guida e affrontarono un viaggio lunghissimo, pieno di incognite, ma cercarono con insistenza dov'era il luogo della nascita del re dei re. È interessante quanto afferma perché quando i magi chiesero e sembra che chiedessero un po' ovunque prima di giungere al re, arrivarono a Gerusalemme dicendo, è come se chiedessero a tutti, ma dov'è il re? È possibile che voi, che siete coloro che lo devono ricevere, non sapete che il re è nato? Noi siamo partiti da lontano e siamo giunti qua per vederlo e voi sembrate non saperne nulla, anche questo un messaggio profetico, no? Di quanto accadrà poi nel popolo di Israele, ma essi cercarono con insistenza perché volevano trovare Gesù e lo trovarono. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore e io mi lascerò trovare da voi. Ma la cosa straordinaria è che oggi noi, oggi, a oltre duemila anni da quell'evento, oggi noi dovremmo seguire l'esempio dei magi ogni giorno e metterci alla ricerca dell'incontro con il re e dei re. Ora, mi colpisce, mi colpisce molto vedere il contrasto che questi magi generano in Gerusalemme, la mettono sotto sopra. Essi arrivano da lontano con una visione chiara. Abbiamo lasciato tutto, abbiamo preso il meglio e ci siamo messi in cammino perché al di sopra di ogni altra cosa per noi conta incontrare il re e dei re. Riuscite a capire? E quando giungono in Gerusalemme trovano invece una condizione di totale ignoranza a riguardo, disinteresse. Ora, c'è un aspetto che a noi deve colpire e che dobbiamo sottolineare. La nostra vita oggi, oggi, somiglia a quella degli israeliti, abitanti di Gerusalemme o a quella dei magi? Perché io e te siamo chiamati ogni giorno a cercare il suo volto e ad offrire il meglio di noi interamente a lui. Perché il messaggio glorioso dell'Evangelo è che ancora oggi io e te possiamo contemplare il suo volto, che ancora oggi possiamo entrare in una profondissima comunione con lui, che ancora oggi noi possiamo offrire adorazione a lui. Ed egli può manifestarsi a noi e deve perché in questo c'è la mia e la tua vita. Ma la domanda è, noi pagani del tempo moderno, appartenenti a un popolo diverso da quello di Israele, stiamo seguendo l'esempio di questi pagani? Stiamo lasciando ogni cosa ai piedi del Signore per cercare il suo volto, per trovare la comunione con lui. Stiamo consacrando la nostra vita per questo viaggio glorioso che ci porta ogni giorno a contemplare il volto del re dei re, verso il quale offrire la nostra adorazione in una resa e in un'obbedienza totale. Ecco, vedete, forse è quello che manca oggi nella Chiesa è proprio un popolo che decida ogni mattina di mettersi in viaggio per riversare la propria adorazione, per offrire se stessi, per arrendersi dinanzi il re dei re, mentre cercano la guida dello Spirito per stare faccia a faccia con colui che ha dato se stesso per noi. Questo è quello che a noi è chiesto. E ditemi voi, se non è questo l'aspetto in cui la Chiesa e la nostra stessa vita molto spesso è mancante. A volte viviamo in Gerusalemme e siamo così presi dalla frenesia delle attività della città, da non guardare in alto e vedere la guida dello Spirito che ci spinge verso Betlemme per lasciare la confusione della città e andare faccia a faccia dinanzi a lui per offrire la resa della nostra vita e la richiesta della sua signoria e sovranità nella nostra esistenza. Vedete, io credo che l'esempio che questi magi danno è un esempio che dovrebbe farci riflettere ed è vero. Essi lasciarono ogni cosa per intraprendere questo viaggio, ma la notizia che dovrebbe metterci in crisi è che Dio si offre a noi, il re dei re Cristo si offre a noi per avere comunione con noi. La parola di Dio afferma che Dio ci ha chiamati, esprime proprio in questo modo, ci ha chiamati alla comunione con il figlio suo. È un po' come questi magi che vengono chiamati d'Oriente, venite perché le porte sono aperte, venite perché il re dei re è pronto ad accogliervi, venite perché egli non caccerà nessuno di coloro che vanno a lui, venite, offrite umilmente la vostra vita a lui e voi contemplerete il volto di Cristo faccia a faccia. Ma questa esperienza noi dopo duemila anni la possiamo e la dobbiamo ancora vivere perché la chiamata del Signore ad avere comunione col figlio suo Gesù Cristo non solo è ancora viva ma è necessaria e impellente perché la nostra esistenza possa riflettere la gloria che Dio vuole porre nel cuore dei credenti. Ed è questo quello che noi dobbiamo imparare a fare, basta resistere alla voce dello Spirito, basta, basta. Alziamo lo sguardo verso il cielo e seguiamo la guida dello Spirito che ogni giorno ci porta a prostrarci ai piedi di colui che vuole avere ogni giorno comunione con noi.